Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento sulla città di Vallefoglia. Prima di iniziare vi ricordo sempre che potete essere anche voi, il nostro pubblico, il telespettatore ad inviarci delle segnalazioni. Trovate qui in sovrimprensione nella nostra grafica il numero whatsapp al quale inviare foto, immagini, video, messaggi audio oppure anche la mail di redazione Vallefoglia, al quale noi poi provvederemo a darne la maggiore diffusione. Iniziamo ora con la prima notizia di questo magazine che riguarda il comune di Vallefoglia, un comune che cerca sempre di rendere più bello e più riqualificate le aree sportive del territorio. In questa occasione il sindaco di Vallefoglia, Palmi Rocchielli, ha fatto il punto della situazione sui lavori, al campo sportivo di Morciola e non solo. Qui siamo vicino a fianco al Morciola Sporting che è un impianto polifunzionale, giocano in serie A, quindi sono stati campioni italiani, i giocatori di questa provincia, di questa regione, cioè di Vallefoglia e sono sei campi in sintetico e qui dietro alle mie spalle vedete il campo di calcio in sintetico, un campo da 100 metri, un campo che consente di giocare a certi livelli anche agonistici, un campo che utilizza finalmente le tribune del Morciola Sporting e quindi avremo oltre questo campo che sarà inaugurato a breve, vedete tutto il tessuto erboso in sintetico e che farà da Pandan con l'altro campo sintetico che abbiamo a Montecchio di Vallefoglia, oltre che due campi, uno a fianco qui al Morciola Sporting in terra battuta, quello tradizionale, un altro campo lo Spadoni in terra battuta sempre a Montecchio e poi abbiamo due campetti nelle colline, una col Bordolo e uno a Sant'Angelo in l'Isola. Quindi una quantità di impianti sportivi di grande rilievo, una palestra bellissima in legno a fianco al polo scolastico di Bottega, abbiamo un'altra palestra a fianco alla Casa della Salute a Montecchio, abbiamo due, diciamo il pala di Unigi che è il palazzetto dello sport dove gioca la squadra di pallavolo femminile di A2 e poi abbiamo una pala vitri che è un'altra palestra, quindi abbiamo una quantità di impianti sportivi di grandissimo rilievo che consente di tenere impegnati migliaia di ragazzini e lo sport fa bene alla salute insieme ai due assessori, ai lavori pubblici Ghiselli e all'assessore calzolari dello sport abbiamo cercato di dare tutte quelle risposte insieme alla Giunta e del Consiglio Comunale sulle diverse discipline sportive perché lo sport insieme alle scuole sono state delle priorità assolute della passata legislatura e anche di questa legislatura. Poi ovviamente stiamo lavorando su tante opere pubbliche, altre opere pubbliche come il teatro, come la pista pedonale ciclabile, il comune, il teatro nuovo, insomma è un cantiere aperto, Vallefoglia è tutto un cantiere, a fianco a quello pubblico ci sono anche molti cantieri privati che producono lavoro, occupazione, crescita e una prospettiva futura soprattutto per le nuove generazioni. E a proposito di lavori sta quasi per terminare la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà le frazzine di Montecchio e Bottega. Nonostante qualche lamentela di una piccolissima parte dei residenti in base al fatto che la pista crescerà in una zona adiacente ad un parco giochi, l'amministrazione comunale ci ha tenuto a ribadire come il punto disegnato sia quello ritenuto migliore per diverse ragioni. I motivi della scelta sono svariati, per prima cosa non è stata messa troppo vicino alla scarpata per evitare rischi di infortuni gravi nelle case di eventuali caduti di ciclisti. Inoltre è stato scelto di non collocare la pista troppo vicino alle siepi per non avere problemi futuri quando si dovrà procedere alla manutenzione di rovi e robusti. I tecnici hanno anche cercato quindi la soluzione ideale tale da non ridurre il campeto da calcio dove i bambini della zona giocano tra loro. Quello scelto dalle comune è il percorso più funzionale per arrivare nel luogo dove nel futuro sorgerà il nuovo teatro. Il mese di ottobre è il mese della prevenzione visiva. Attraverso questo servizio realizzato presso l'ottica VR abbiamo parlato di quanto sia importante da tutti i punti di vista prendersi cura dei nostri occhi. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e risulta quindi di particolare importanza fare un controllo della capacità visiva, soprattutto in funzione dell'epoca in cui viviamo dove pc, tablet e cellulari sono i protagonisti. Poniamo poi una speciale attenzione ai nostri bambini ai quali è sconsigliato un uso prolungato di tali dispositivi e soprattutto prima di andare a letto. Del resto anche per quelli non bambini i rischi principali sono di secchezza e di invecchiamento precoce dalle strutture interne quindi prendersi cura dei propri occhi significa prevenire una comparsa di disturbi visivi. Non vi rimane dunque di rivolgervi ad un professionista della visione. E adesso parliamo di un evento perché il prossimo weekend nei giorni di sabato 3 e domenica 4 ottobre prosegue la quarta fiera di San Michele Arcangelo a Talacco di Vallefoglia. Sarà un fine settimana caratterizzato da tante iniziative con vari espositori di macchine agricole, modellismo, artesanato locale, prodotti per l'agricoltura e agroalimentari bio delle terre di Vallefoglia con i produttori di formaggi, salumi, miele, frutta di stagione, legumi, vino di viscele e tanto altro dove gli stendisti illustreranno e faranno assaggiare a tutti i partecipanti tutte le loro produzioni. Non mancheranno anche i momenti di svago all'interno della fiera dove saranno molteplici gli spettacoli a iniziare dal mitico Biccio, alla commedia dialettale della compagnia di Senza Prescia di Mondaino, all'intrattenimento delle club magico marchisano per i bambini. Inoltre saranno presenti anche gli arcieri di Sant'Anzolo per quanti vorranno dilettarsi con arco e frecce. Per quanto riguarda la buona cucina, la Proloco di Sant'Angelo in Elizzola non ne mancherà di far assaporare a pranzo e a cena la migliore cucina tipica a tutti i presenti con i piatti della tradizione. E adesso parliamo di una questione che riguarda Piazza dei Quartieri a Montecchio, dove alcuni gruppi di ragazzi continuano a fare rumore fino a tardanotte, nonostante sia stato intensificato il controllo da parte dell'amministrazione comunale attraverso nuove telecamere installate che riprendono l'intero circuito della piazza. È una piazza importante, frequentata da parecchie famiglie, è anche un punto di riferimento per Montecchio, con le parecchie attività che ci sono intorno. Il problema è che forse è troppo vissuta di notte e di giorno, è una cosa perfetta. Di notte invece si ritrova ancora troppo spesso con delle risse, con delle, chiamiamole bande di ragazzi, ma non sono nemmeno bande, ragazzi molto piccoli di età che si attardano facendo tanto rumore e schiamazzi notturni e oltretutto le risse. La cosa molto preoccupante è questa, non si capisce il motivo, come mai questi ragazzi debbano uscire, escono la sera per divertirsi e tutto va a finire in rissa. Abbiamo un riscontro di due settimane fa in cui sono state fatte, diciamo, delle belle botte. I residenti hanno chiamato anche le forze dell'ordine, pare che anche questa settimana lo stesso ci sia stata un'altra rissa, un pochino più contenuta. Il problema ritorna, diciamo, alla base, allora si possono dare tante colpe a questi ragazzi che non hanno da divertirsi, ma il problema è la famiglia, dove la troviamo di notte? Perché sono ragazzini di 15-16 anni, forse anche più piccoli, che si attardano, si parla delle tre di notte, durante tutta l'estate è andata avanti così, adesso pare che con l'inizio delle scuole si sia un po' attenuato, nulla cambia la situazione comunque del venerdì, il sabato e la domenica. I residenti, sinceramente, sono veramente indignati, malgrado sia stata messa una telecamera per controllare la zona, non si riesce a arginare il problema. Non saprei più che consiglio dare in questo momento, se non riuscire a sviluppare delle politiche giovanili, coinvolgere questi ragazzi in un modo diverso. Io direi che per ridare decoro a questa piazza ci vorrebbe la collaborazione delle famiglie. E ritorniamo a vivere la piazza nel vero senso di comunità, di divertimento, vigiliamo sui giovani che sono il nostro futuro e speriamo che da oggi in poi cambiano questi comportamenti per la tranquillità di tutti. Adesso è il momento dedicato alle vostre segnalazioni. Prima cosa, vi ricordo sempre il nostro numero, i nostri contatti che fare riferimento, trovate qua in sovrimpressione il numero WhatsApp e trovate anche la nostra mail di redazione valefogliachiocciolarossinitv.it Vi ricordo che potete inviarci sempre immagini, potete inviarci video, messaggi di testo oppure messaggi audio, come rimane più comodo a voi, alle telespettatori. Noi provvederemo, come in questo caso, a darne diffusione, a darne notizia. In questa occasione un nostro telespettatore ci ha segnalato un fatto riguardante la gestione delle taglie dell'erbi in via Pergolesi a Montecchio. Nel caso specifico, che ci è stato segnalato, l'erba è stata tagliata insieme ai rifiuti, trinciando tutto e creando un ammasso di residui di cartacee e bottiglie di plastica. Inoltre, come si può vedere dalla foto, il marciapiedi in questione è occluso da una siepe che ne rende impossibile il passaggio, costringendo i pedoni a mettere i piedi in strada. Da segnalare, anche un altro fatto di degrado accaduto all'Apsela nelle comune di Montellabate, dove è stato trovato un grosso cumulo di rifiuti. La discarica in questione è stata trovata percorrendo la strada che inizia lungo la Montellabattese. La strada conduce ad una vecchia casa colonica, oramai diventata un erudere ricoperto dalla vegetazione e quindi un luogo abbandonato e poco frequentato. La foto, postata su Facebook da Roberto Rossi, presidente dell'associazione Mons Abatis, è stata condivisa con l'obiettivo di smuovere la coscienza delle persone. Non solo però, perché l'idea è quella di creare una specie di mappa di segnalazione di questo genere e di le nome datogli, ovvero quello di mappa della vergogna, rende appieno l'idea. E adesso ci spostiamo nel momento da Vallefoglia per parlare di una bella iniziativa successa sempre all'interno delle nostre entroterra della provincia di Pesaro-Urbino, ovvero il comune di Fermignano, dove l'azienda Midor ha consegnato 250 borracce agli studenti delle classi medie dell'Istituto Comprensivo Donato Bramante. Un gesto importante che va incontro alle teme dell'ambiente e a quella della riduzione della plastica. Insieme a questa iniziativa, fatta, studiata appunto con Ivan Calandra di Midor di Fermignano e insieme chiaramente alla dirigenza scolastica si vuole sensibilizzare i ragazzi per un uso razionale della plastica. Attraverso l'utilizzo di queste bottigliette termiche in alluminio verranno risparmiate circa 50.000 bottiglie di plastica all'anno, quindi per 250 ragazzi, il che vuol dire sensibilizzare in maniera profonda il nostro futuro, i nostri ragazzi che sono i cittadini del futuro in un uso razionale della plastica, in un uso soprattutto consapevole, perché la plastica sappiamo tutti i tempi di degradamento che sono lunghissimi e appunto per evitarne l'uso, lo spreco, il consumo abbiamo dato ai ragazzi una borraccia che potrà essere potenzialmente eterna e che potranno utilizzare in tutte le loro attività sia scolastiche che extrascolastiche. In questi quattro anni e mezzo abbiamo lavorato tantissimo per l'ambiente, siamo uno dei comuni più ricicloni delle marche, nel 2018 siamo stati il miglior comune per quantità di raccolta differenziata, quest'anno ci attestiamo circa l'81%, abbiamo riqualificato da un punto di vista energetico quasi tutte le strutture comunali, ad esempio siamo in questo momento in una scuola dove sono stati fatti sia un intervento sismico che energetico che abbiamo riaperto a luglio, dopo un anno e qualcosa di lavori, quindi un intervento da quasi un milione e mezzo di euro che ci ha portato ad avere una scuola dalla classe G, quindi la peggiore classe da un punto di vista energetico, alla classe A, quindi una tra le migliori, quindi e poi oltre a averla riqualificata da un punto di vista sismico, oltre ai vari impianti LED che sono stati fatti per la pubblica illuminazione, la riqualificazione energetica che inizierà a breve per quasi un milione di euro sul palazzo comunale, per non parlare poi del progetto massimo che stiamo per realizzare, che è la nuova scuola che è 5 milioni e mezzo di euro, la scuola più grande delle marche di edificio Enzeb, quindi una struttura energeticamente zero, a consumo zero. Sono 250 borracce, tutte in alluminio, nickel free, con vernice esterna atossica, dove praticamente i ragazzi possono usare all'infinito e così riduciamo l'uso della plastica, perché ci sembrava comunque un argomento importante da affrontare, anche in virtù del Covid che ha un po' soppresso tutta questa sensibilizzazione all'uso della plastica, noi l'abbiamo voluto portare in primo piano. Ci avevamo pensato un anno fa, però come poi ha detto il sindaco nella precedente intervista, la scuola non era pronta e lo stesso Covid ci ha fatto chiudere un po' tutto, quindi siamo arrivati lunghi, ma in realtà il nostro pensiero era stato tra i primi. Intanto iniziamo da questo piccolo gesto, poi abbiamo fatto anche un bigliettino attaccato a loro, dove c'è scritto un piccolo gesto per aiutare il pianeta, aiutaci anche tu a ridurre l'uso della plastica, dove comunque li sensibilizziamo. E in più abbiamo promosso il nostro punto vendita con uno sconto del 10%, qualora i genitori o gli alunni venissero nel nostro punto vendita, dove abbiamo tutti i materiali ecocompatibili senza plastica. Quindi è questa l'iniziativa, al momento siamo da 38 anni vicini al territorio, sensibili all'ambiente. Io ringrazio dell'iniziativa Midor e il sindaco e tutta l'amministrazione di Fermignano per questa iniziativa e per la sensibilità nei confronti della scuola e soprattutto degli alunni. Quest'iniziativa promuove il non utilizzo della plastica ed un servizio igienico nell'acqua ottimo per la popolazione e in questo caso degli studenti. E ora concludiamo con lo sport. Nelle campionate di Serie A2 di volley femminile la Megabox Vallefoglia resta a punteggio pieno dopo le prime due vittorie. Nella seconda giornata di campionato la squadra allenata da coach Fabio Bonafede si è imposta per 3-7-0 contro le sorelle Ramonda Ipag e Montecchio Maggiore. Ora per la Megabox si presenta una nuova trasferta visto che nella terza giornata di campionato giocherà contro Cutrofiano. Nelle calcio, alla prima giornata delle campionato di eccellenza, l'Atletico Gallo Colbordolo ha perso l'esordio per 3-1 in trasferta contro Biagio Nazaro. I Rosso-Blu, andati in svantaggio nel primo tempo, avevano momentaneamente pareggiato con i muratori a metà ripresa prima di subire le due reti decisive da parte dei padroni di casa. E per questa edizione delle Vallefoglia Magazine è tutto. Vi ringrazio sempre per essere stati con noi qua sul canale 633. Su Rossini TV vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo sempre alle ore 19 e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.